Sono immagini agghiaccianti, quelle immortalate dalle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio La Macchia Ovest ad Anagni, dove lo scorso 15 maggio, dopo la partita a Roma-Juventus, una quindicina di persone, secondo gli investigatori Ultras del Napoli, si resero responsabili di un'aggressione nei confronti di alcuni tifosi juventini. Rapina, danneggiamento e incendio sono questi reati che la procura di Frosinone, unitamente al personale della Digos e alla sottosezione della polizia stradale in A1 di Frosinone, hanno contestato a tre persone arrestate questa mattina alle prime luci dell'alba. In manette sono finiti un 37enne di Caserta e due giovani napoletani di 24 e 23 anni. Tutti hanno ottenuto il beneficio dei domiciliari. Nelle immagini si vedono i tifosi juventini fermi a fare il rifornimento quando, come accertato anche dalla polizia, sono arrivati sei mezzi provenienti da Torino e con a bordo una quindicina di persone. In pochi istanti nel piazzale scoppiò una vera e propria guerriglia. Terminata l'aggressione fisica, i violenti si impossessavano anche delle borse all'interno del furgone su cui viaggiavano i tifosi juventini contenenti denaro, documenti e altri oggetti personali e si allontanavano dal luogo dell'evento a bordo di alcuni veicoli. Le immagini immortalate dalle telecamere presenti nel piazzale hanno consentito agli investigatori della polizia di risalire agli intestatari dei mezzi ed è così che le forze dell'ordine sono riuscite ad arrivare a tre degli autori materiali della rapina all'autogrill e dell'incendio al mezzo dei tifosi juventini residenti a Brindisi. Nei giorni immediatamente successivi sono state seguite sul territorio di Napoli e Caserta perquisizioni domiciliari a carico di alcuni degli identificati nel corso delle quali è stato rinvenuto materiale vario comprovante la diretta responsabilità in merito ai reati contestati. Questa mattina gli arresti. Per tutti e tre sono state avviate poi le procedure per l'emissione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Proseguono le indagini per l'identificazione delle altre persone che facevano parte del gruppo dell'assalto. I provvedimenti scaturiti dalle indagini svolte dalla polstrada di Frosinone sono stati firmati dal GIP di Frosinone Antonello Bracaglia Morante.